Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su COD Signori siamo ritornati E io dopo due mesi Però in un video mi pare quasi un mese Quasi un mese Comunque ritorniamo con Una nuova arma corpo a corpo che tengo Ormai che ce l'hanno più o meno quasi tutti Cioè i guantoni da box Signori questa qua si è gratis tranquillamente Basta solo aspettare che si uniscono tantissime persone Su COD Ok peraltro sono iniziato Poi sono entrato in una partita già iniziata Ok io direi subito di partire raga Questa è la prima volta che Oddio È la prima volta che li uso Stanno qua intanto Qualcuno sta qua Mamma mia mi sono fatto un equipaggiamento abbastanza figo Oh cavolo Oppure lui sta con i guantoni Boom ucciso Oh cacchio No raga non ci voleva Dai Ok sta uno Boom Pugile professionista E sale a livello No raga Che portata che c'ha Che aggancio soprattutto No vabbè che schifo Cavolo Odio regalare comunque le kill Boom No ma come ha fottuto Come ha fottuto con la scarica elettrica Oddio eccolo Sì anche per te Eh minchia Faccio schifo raga Faccio schifo Dai questa è quella partita di riscaldamento Ma perché raga non va Ah quella forse è perché ti dà la maschera Va bene Finalmente una kill Eccolo Ma non è lui Ok Va bene Va bene Pensavo che era Un falso Diciamo così Eccolo Eccolo raga Non mi sente Dai avanti Boom Boom Amanti sanguinario O a v Ok di qua dovrebbero venire Ok uno sta venendo Non viene Non viene Eccolo 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 vai 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 Veloce veloce Grande raga Mamma mia siamo fortissimi Più o meno Bella aggancio Bello Ok non sono morto E non so come ho fatto Mamma mia Non ci credo 11-7 Siamo anche in positivo Andiamo di qua Dai vieni Boom Dimmi un poco Come mi ha fregato Come mi ha fregato Io scemo Che non riuscivo a colpire What the fuck Come mi ha ucciso Vabbè Ragazzi Ce ne facciamo immediatamente Un'altra Quindi ci sentiamo Fra pochissimo Ok Prendiamo i guantoni Eccolo qua intanto raga Guardate i banshee Fighissimo Guantoni Vai Subito in casa Perfetto Che manco la casa Ok allora vorrei restare Un attimo qua A pensare Minchia Sono tutti quanti Là raga Tutti Ok Uno è morto Vorrebbe spawnare qua Stavo uno là Sì Beccate questo Raga Io vado di qua Boom Addormentato Boom Boom 3 a 0 3 a 0 Raga Non ho mai fatto una tripla così Mai fatto In questo modo intelligente Peraltro Vorrei dire Ma non mi aveva visto Dove è andato No Cretino Madò No vabbè raga Sta quello là Con la pistola Dai vieni qua Minchia col dingo Col dingo E la pistola pure Ok sta uno qua Lo possiamo acciuffare E ora si dovrebbe fare il giro Dov'è? Non ti muovevi Vai andiamo di qua Ok intanto tengo le scariche Una di qua Oddio No ma teni la pistola Boom Uno dovrebbe salire Ed eccolo qua Intanto abbiamo anche la corazza Quindi not bad Ecco Vabbè ma A parte che con un pugno Muoio io Con Anche se ho la scarica Maddo Mamma mia raga Che schifo Però sapete È bella la lobby Tutta così È bella Perché ormai ora Ce l'hanno tutti E quindi molto la usano Minchia avevo colpito prima io però eh Ah quello là è quello di prima Non ci credo raga Io l'avevo colpito Cioè è passato il pugno Nel corpo È trapassato però Mi stanno sparando Mori No raga Oddio No questa voglio provare un attimo Mi ha ucciso Mi ha ucciso Vabbè però Scialla Fa niente Stavo inserendo il silenzio Oddio Che culo Boom No Non mi trovo Ok Andiamo Restiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Vai 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 Esci esci No Da dietro No Veramente fai Io raga Qua non me la so cavare Che sfiga Che sfiga No vabbè Di nuovo Mi ha colripper Aia Aia Raga 14 17 Cioè noi siamo 14 Mentre Uno sta 17 Possiamo vincere Basta che Ci impegniamo Ok Aspettiamo un attimo Di qua Ha Headshot Bitches Boom No No Boom Raga 19 E uno sta 21 Se vinciamo Sono un mostro Ok Scappiamo Scarica elettrica Qua Li aspettiamo Ok UAV Ok Sono tutti di qua Sono tutti di qua Boom Cavolo Cavolo Andiamo di qua No raga Non riesco a colpire Non ci credo Che culo Che Cavolo Di culo Andiamo di qua La metto di qua La scarica 22 23 Mamma mia Come è combattuta Bella Mi piace sta partita Perché comunque è scarso Quello là Cioè con le armi Non riesce a vincere Eccolo No Non ci credo Raga L'avevo colpita Ai piedi L'avevo colpita Ai piedi Che aggancio Che tiene Schifo È uno schifo Cavolo Però dai Raga Ho controllato bene Sta partita Ma avete visto Dove sta quello Sulla roccia Oh minghia Vai Andiamo di qua Di nuovo Giusta La mettiamo qua No Mannaggia Troppo tardi Sono stato lento Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Smuori Smuori Non la vinciamo Eh sta giù Raga Mamma mia Che paura Che mi ha fatto Piglia questo Mamma mia Signori Siamo arrivati Terzi Dai Non male Per essere La seconda volta Cioè Una e mezza Dai che prima È stata la prima Una mezza partita Ha vinto ovviamente Quello con l'arma Doveva vincere Per forza lui Ah peraltro Penso che sia anche italiano Eh già Vabbè Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Se volete Un altro episodio Con i guantoni da box Lasciate 70 like Dai Se ne volete un altro Commentate Condividete Iscrivetevi Per stare sempre Aggiungendo Nel prossimo video Noi ci sentiamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao Ciao